e quindi io vi do la buonasera do buonasera ai presenti io sono eleonora belletti sono la titolare della casa edifici argento gracco di ferrara e questa sera ho il piacere di essere in compagnia della dottoressa paola giovecchi e del scrittore tiziano bellucci a cui do il benvenuto grazie paola per il tuo tempo per essere qui con noi questa sera molto piacere grazie anche a tiziana per essere sempre disponibile con noi e per parlarci degli argomenti che tutti stanno a cuore allora prima di seguire la parola i nostri ospiti che li presento brevemente per chi non li conoscesse ma è impossibile non conoscerli perché entrambi sono personaggi noti la dottoressa giovecchi è una letterata una giornalista una scrittrice e si occupa da lungo tempo di tematiche esoteriche e spirituali scrive su diverse su diverse testate tra cui il giornale dei misteri sulla rivista cuore salute a una rubrica su astra ed è anche direttore della rivista luce e ombra inoltre è vice direttore di una celebre biblioteca bolognese che è la biblioteca bosano deboni una delle biblioteche esoteriche esoteriche più conosciute in italia è inoltre autrice di oltre 30 saggi naturalmente su tematiche esoteriche e ha diciamo durante la sua carriera ha ricevuto anche parecchi premi e riconoscimenti letterari buonasera paola buonasera leonora buonasera tiziano bellucci è un insegnante di musica principalmente e dal 2005 insegna scienza occulta presso la scuola di arte e terapia stella maris di bologna dove lavora ed esercita quotidianamente è un ricercatore divulgatore scientifico spirituale ed è ovviamente scrittore per esempio torato editore ovviamente non solo ma noi siamo molto felici di poterlo annoverare nella schiera dei nostri autori fa parte della società antroposofica universale di dornach fondata da rudolf steiner che è il personaggio più tiziano si è ispirato nella stesura dei suoi libri e di cui adesso ci racconteranno qualche cosa prima di addentrarci diciamo nel contenuto dell'ultimo libro di tiziano tiziano per agente dorato ha scritto tre libri e ve li faccio vedere naturalmente allora il primo libro scritto per noi è erosofia i misteri del maschile e del femminile abbiamo proseguito con un testo molto bello la musica perduta questo è un romanzo esoterico mentre il primo è un saggio questo è un romanzo esoterico attraverso il quale si vogliono proporre degli insegnamenti sia ai neofiti sia diciamo a persone un po più navigate in questo ambito questa sera invece parleremo faremo una chiacchierata generale insomma su questo tema però avremo anche la possibilità di approfondire i contenuti del suo terzo libro che si intitola il grande equivoco che è stato pubblicato nel 2021 l'anima in cerca del vero io abbiamo naturalmente la presenza di paola giovetti perché abbiamo avuto veramente l'onore della sua presentazione all'interno di questo libro quindi grazie ancora allora dicevamo e per capire i temi che ci siano tratta dobbiamo partire da un personaggio molto celebre che è rudolf steiner infatti tiziano basa tutta la sua la sua ricerca ispirandosi a questo grande maestro io cederei quindi la parola alla dottoressa giovetti che ci potrà illustrare la vita di rudolf steiner prego paola ecco grazie leonora io scrivendo una presentazione del libro dell'amico tiziano ho privilegiato privilegiato l'aspetto biografico perché io sono una grande sostenitrice dell'opportunità di conoscere la vita le vicende di vita il pensiero del personaggio di cui si tratta quindi volentieri ho aderito all'invito proprio in quest'ottica di presentare ai lettori chi è rudolf steiner la quale tiziano bellucci si è ispirato nello scrivere questo suo libro libro di riflessioni sul pensiero sulla filosofia di stra di steiner però diciamo chi è stato rubor steiner di rudolf steiner si parla parecchio adesso si parla per esempio di scuole steineriane anche in italia non ce ne sono molte però sono sono note si parla di agricoltura biodinamica forse non tutti sanno che l'agricoltura biodinamica se l'invento alla fine del secolo scorso dal fine dell'ottocento anche esattamente rudolf steiner poi ne parleremo c'è una medicina steineriana c'è appunto una pedagogia steineriana di cui abbiamo parlato ci sono tante scienze appunto dedicate a lui oltre al pensiero spirituale che quello fondamentale di cui si parlerà stasera però lui è stato un uomo molto pratico studiato scienze e ha sempre voluto convalidare con prove scientifiche quello che appariva il suo occhio interiore perché lui è stato un veggente naturale nato leggente fin da bambino però un leggente che non si fidava probabilmente solo di quello che vedeva e voleva anche convalidarlo appunto con la scienza lui era nato nel 1861 nella bassa austria il papà era ferrodiere telegrafista delle ferodie e lui come attraverso forse il lavoro del padre ha cominciato ben presto a interessarsi alle tecniche alla meccanica le tecniche nel suo tempo grande amore per la natura lui è vissuto bambino nella bassa austria era una famiglia modesta la sua e lui frequentò le scuole in questa zona poi quando venne il momento di andare all'università lui si iscrisse alla facoltà di scienze e andò a vienna andando a vienna lui ebbe conferma di tanti fenomeni che gli capitavano fin da bambino cioè lui fin da bambino racconta nella sottobiografia che vedeva le anime dei trapassati la prima volta era mentre aspettava il papà alla stazione nel sala d'aspetto della stazione gli apparve una zia che era morta da un po di tempo gli disse delle cose e lui naturalmente come bambino rimase molto colpito però pensava forse che tutti potessero avere questo tipo di visualizzazione presto ci accorse che non era non era di tutti ho parlato del treno che dal paesino dove viveva portava a vienna perché su questo treno lui conobbe quello che gli fu il maestro oppure colui che gli preparò l'incontro col suo maestro di cui non si sa molto si sa quasi niente perché Udo Stein su questo fu sempre molto molto segreto però lui su questi viaggi in questi viaggi incontrava questo erborista che era un anziano erboista che raccoglieva le erbe nei boschi nei prati dell'austria e poi le portava a vendere in città agli speziali ai farmacisti e questo era un uomo di grandissima saggezza con la quale lui col quale lui poteva parlare del mondo spirituale che appariva al suo occhio interiore non sono cose di cui è facile parlare specialmente per un ragazzino invece con quest'uomo lui ebbe una prova dei suoi poteri dei suoi doni che chiamiamoli doni più che poteri e si tranquillizzò in un certo senso prese anche maggiormente coscienza di se stesso all'università lui frequentò e riscritto una facoltà scientifica però frequentò molto le lezioni del di letteratura abbiamo molto anche la letteratura l'arte sempre frequentò molto le lezioni di letteratura invece anche esperienze didattiche e si meritò talmente tanta considerazione dal punto di vista letterario che fu invitato il suo professore lo mandò a a weimar per occuparsi della edizione della grande edizione nazionale delle opere scientifiche di grete allora non molti sanno che grete è stato un grande poeta un grande scrittore un grande drammaturgo anche però pochi sanno che è stato anche uno scienziato lui aveva le grete questa capacità che adesso non è più possibile per l'enorme crescita della sapienza e della cultura ma lui si è occupato di tantissime materie anche scientifiche e ha scritto vari libri c'è la teoria dei colori per esempio molto famosa scrisse dei libri sulle anche sull'evoluzione della specie recorrendo in un certo senso darvi vari libri scientifici e un certo punto queste opere scientifiche non erano state analizzate gritte era morto nel 1831 erano passate alcuni decenni dalla sua morte e non erano state analizzate a fondo perché dovevano essere presentate bene corredate di di note di commenti eccetera e rudolf stane si era talmente appassionato all'opera di goethe ed era talmente preparato e pronto sia in letteratura che in scienze che fu invitato appunto a weimar weimar è la città in sassonia dove goethe ha vissuto 60 anni della sua vita e lì c'è il lascito di goethe c'è l'archivio goethe schiller anche lui rimase sette anni sette anni a weimar che fu un era molto giovane aveva poco più di vent'anni e tornò ai fini che ne aveva un poco più di 30 e rimase sette anni fu un periodo stimolantissimo per lui dal punto di vista culturale conobbe i maggiori letterati dell'epoca perché erano tutti impegnati appunto nella grande pubblicazione delle opere pubblicazione delle opere nazionali delle opere di goethe e lui corredò questi testi scientifici di goethe di talmente accurate e ben fatte note che tuttora sono considerati esemplari di un lavoro straordinario rimase per sette anni terminato questo lavoro lui intanto era molto accresciuto la sua cultura non si era laureato in scienza anche se aveva studiato parecchi anni scienza ma in compenso si era laureato in filosofia aveva preso un altro indirizzo però aveva sempre avuto una preparazione scientifica notevole questo punto lui dice cosa faccio della mia vita si trasferì a berlino a berlino dove diede inizio a una carriera di conferenziere di relatore allora evidentemente era possibile vivere di questo lui conosceva tante materie era un leggente quindi era un conoscitore del mondo spirituale e parlava di tutte queste cose confrontate appunto con con la scienza come lui sapeva fare e un ambiente nel quale lui si trovò molto bene trovo molta comprensione fu quello dei teosofi a berlino la teosofia io penso che sia opportuno dire pochissime cose non si capisce questo il passaggio importante della vita di steiner allora società teosofi che era stata fondata nel 1875 a new york da elena petrovna blavasky questa nobile donna russa dai grandi poteri psichici che aveva viaggiato in oriente cosa che al tempo non era per niente agevole né comune era stata in tibet era stata in nepare stati in india aveva conosciuto maestri di saggezza che gli avevano profuso degli insegnamenti che lei codificò nella in quella che è diventata la società teosotica che si basa su tre principi fondamentali cioè uguaglianza fraternità di tutti indipendentemente da sesso razza cultura colore religione eccetera desiderio di studiare le leggi inesplorate della natura e il confronto fra le religioni e le scienze studio delle potenzialità dell'uomo tutti i principi sui quali certamente rudolf steiner era d'accordo in più i teosofi erano reincarnazionisti e rudolf steiner pure lo era riteneva che la dottrina delle molte vite fosse una necessità cosmica per evolversi per crescere che non potesse bastare pur essendo lui profondamente cristiano non trovava nessuna contraddizione tra la dottrina della reincarnazione e il cristianesimo lui fu con uomo i teosofi con loro si trovò il suo perfetto agio disse che anzi teosofi erano gli unici con i quali all'epoca si potesse fare un serio discorso spirituale cioè parlare dell'oltre parlare della vita spirituale delle necessità evolutive parlare dei diversi corpi dell'uomo tutte queste cose di cui teosofi questo si può fare quindi accettò l'invito dei teosofi a ad essere segretario generale della sezione tedesca della società teosofi un impegno importante impegno che lui mantiene per undici anni steiner era un conferenziere prodigioso e ho letto diverse descrizioni del di come lui fosse come conferenziere lui dominava un'infinità di materie un po con la sua leggenza un po con la sua grande cultura mescolando tutto questo e ha tenuto lui un'infinità di conferenze libri che ci sono su di lui sono prevalentemente raccolti di conferenze più che testi scritti alcuni se ne sono però prevalentemente sono raccolti di conferenze rimase per undici vado un po veloce perché la vita non lunghissima però molto complessa undici anni poi si rivelarono alcune differenze cioè per esempio differenza fondamentale si rivelò sul valore che i teosofi davano alle filosofie orientali buddismo e induismo contro il cristianesimo certo sicuro dirlo steiner per lui la figura del cristo era la figura centrale dell'umanità e quindi a un certo punto sulla base anche di questo e poi sulla base anche del fatto che secondo me quando una persona è ricca interiormente tante cose da dire come steiner non può restare in eterno sulla scia di un altro filone di spirituale di ricerca quindi a un certo punto educatamente amichevolmente si separò dai dai teosofi e diede inizio al suo alla sua corrente di pensiero che si chiama antroposofia che quella con la quale è noto e cominciò appunto a divulgare questo avendo anche molti seguaci molti molte persone che lo seguivano e che ben presto lo aiutarono tutte le sue attività lo aiutarono per esempio a creare un centro dove lui potesse mettere a punto tutto il suo pensiero tutte le sue discipline che nel frattempo si erano venuti delineando accennato prima alla pedagogia Pane era sempre stato attento alla pedagogia sempre messo a punto sistemi educativi straordinari quindi la pedagogia steineriana quindi l'agricoltura l'agricoltura biodinamica modo di coltivare senza usare sostanze chimiche servendosi dei ritmi della natura molto attaccato alla natura molto vicino e la medicina steineriana cioè medicamenti ricavati prevalentemente dalle sostanze naturali dalle pietre dalle erbe dalle piante eccetera e tante cose di cui lui si è occupato quindi insieme alla sua compagna e poi moglie marie von sievers che era un artista mise a punto anche il discorso artistico lei era una era una danzatrice era una bravissima artista e lui riconobbe l'importanza dell'arte per la sua pedagogia ai bambini viene data insegnata molto l'arte ha dato molto importanza al discorso dell'arte al disegno al movimento armonico e così via e quindi anche questo ha un ruolo importante nel suo pensiero questo questo insieme di spirito anima e corpo rappresentata appunto anche da queste particolari danze l'euritmia si chiama è un pensiero ricchissimo è quello di steiner veramente come pochi più il pensiero spirituale le gerarchie angeliche di cui lui ha parlato la tripartizione dell'essere umana e così via quindi tornando a quello che dicevo prima la necessità di avere un centro per focalizzare il proprio pensiero è un punto di incontro stavano per poi ci fu un evento providenziale stavano per accettare per scegliere un territorio vicino a monaco di baviera quando ci fu siamo alla vigilia della prima guerra mondiale quando fu offerta loro un terreno vicino a basilea ad orna lui andò a vedere un territorio bellissimo una zona ondulata molto armonica mi trovò in tutta zona particolarmente carica particolarmente adatta e scelse questa a preferenza di quella di monaco scelta che poi si rivelò provvidenziale perché quando scoppiò poi la prima guerra mondiale non ci sarebbe più stata la possibilità di esercitare invece nella neutrale svizzera lui ha potuto continuare tranquillamente la sua opera anche durante tutta tutta la guerra era un discorso spirituale quello che lui faceva per cui avrebbe potuto anche dare fastidio a certi a certi ambienti invece svizzera si poteva muovere con tranquillità creando un centro che tuttora è il centro di tutte le attività legate a steiner c'è casa editrice viene lì rappresentata durante l'estate il faust di goethe in edizione originale per esempio il motivo principale del faust di goethe con cui si chiude sono queste parole che gli angeli rivolgano a goethe che a faust che aveva venduto l'anima al diavolo e alla fine mentre il diavolo sta per ghermirlo gli angeli invece lo sottraggono e c'è questo canto degli angeli che dicono possiamo possiamo salvare chi senza mai stancarsi incessantemente opera quindi il valore della crescita del lavoro incessante dell'evoluzione per far crescere quello che abbiamo dentro un altro discorso molto importante di steiner questo pensiero di goethe da lui l'ha fatto suo e l'ha portato avanti sempre per tutta la vita ed un sacco di difficoltà a steiner perché ebbe il questo primo goetheanum lo chiamò goetheanum questo edificio che lui costruì ad ornach bellissimo tutto di legno dipinto con colori naturali da lui stesso lui era pure artista fu incendiato dolosamente e quindi cadde si distrusse la di legno quindi la notte e lui non si perse d'animo non si perse d'animo e ideò un edificio che non si sarebbe potuto bruciare cioè in cemento e fu la prima volta un cemento usato per la prima volta in quel modo cioè in forme ondulate in forme armoniche e anche questo è stato un innovatore il secondo goetheano è ricalca le forme del primo però con un materiale diverso lui diceva che non sarebbe più stato come il primo però ed è stato un incendio doloso da parte di persone che non apprezzavano il discorso spirituale il discorso di crescita il discorso di cultura che veniva fatto lì a due tre anni. Rudolf Steiner questo avveniva nel 23 lui morì nel 25 e non era anziano non era vecchio dunque aveva 64 anni non si è mai saputo esattamente di cosa sia morto a un certo punto dovette mettersi a letto lui continuò con questa sua prodigiosa attività di conferenziere perché lo chiamavano ovunque a esporre il suo pensiero e poi a un certo punto non riuscì più e nei mesi che gli rimasero da vivere però a letto scrisse la sua autobiografia che però si ferma al mi pare al 1907 perché la morte lo colse prima è stato un grande maestro spirituale i semi del suo pensiero sono veramente tanti io ne ho accennati alcuni adesso Tiziano dirà meglio di me ma io lo trovo un personaggio che unisce le cose fondamentali cioè il pensiero spirituale la vergenza interiore e la volontà e la capacità di controllare tutto questo con le sue conoscenze scientifiche questo lui ha fatto con le intuizioni di tipo tecnico di tipo concreto come la pedagogia come l'agricoltura come la medicina come tante altre cose e non c'è naturalmente la possibilità di questo tipo di controllo per il suo pensiero spirituale quando lui parla delle gerarchie angeliche parla dei mondi ulteriori eccetera però gli possiamo dare fede perché se dove è possibile controllare lui è stato così concreto e così preciso possiamo dargli fede ha dato veramente per la spiritualità degli stimoli che pochi hanno hanno dato per questi stimoli che si possono seguire infatti anche oggi steiner è molto apprezzato e sono contenta che che tiziano si dedichi a lui proprio facendo vedere aspetti particolari del suo insegnamento del suo pensiero perché c'è bisogno anche di questa capacità appunto di allargare il pensiero di stai che in fondo è morto quasi cento anni fa è morto nel 1925 quindi tra poco saranno cento anni però è più giovane più attuale e moderno che mai perché c'è ancora in lui tanto da scoprire è uno dei pensieri che non che non invecchiano ecco nella maniera più assoluta quindi questo un pochino sulla sua vita sul grosso modo sul suo pensiero e poi tiziano ci dirà molto di più casomai se ci sarà una domanda ritorniamo sui singoli aspetti ma questo volevo dire per dare una prima inquadratura grazie anche per averci fatto comprendere la pienezza della vita ma anche non solo della vita ma dell'interiorità di questo uomo grandissimo che in effetti ci porta chiamiamolo così insomma delle conoscenze che sono intramontabili certamente leggere i suoi libri oggi a parte il fatto che io ho letto alcuni lessi alcuni testi di steiner da giovane e li trovai veramente difficilissimi e dovete abbandonarli per poi riprenderli anni dopo mi diedero un enorme sollievo quando cominciai a comprendere la profondità del suo pensiero il sentimento e l'emozione che mi diede a leggere i libri fu veramente il sollievo di sapere che che questa vita non è fine a se stessa e non è sprecata conoscere un po diciamo come come stato il suo percorso di vita è sicuramente utile per comprendere meglio la sua figura la continua stimola continuamente l'essere umano a coltivare se stesso da andare avanti a ricercare ha fatto prima l'esempio di del fausti che viene assolto proprio perché per questo su con tutto gli errori che ha fatto le cattivere che sono fatte con più che c'è però alla fine viene assolto per questo suo incessante bisogno di andare avanti e anche di lavorare operare per il progresso dell'umanità oltre che di se stesso quindi lui certamente era molto in linea con questo pensiero bene paola quando vorrai intervenire fallo pure liberamente adesso cediamo la parola a tiziano tiziano io ti do il là facendoti una domanda molto generica e poi tu estrinsecati con te come preferisci il tuo incontro con rudolf steiner grazie buonasera a tutti e ringrazio ancora paola perché considera un privilegio il fatto di poterla avere qui siamo entrambi di modena anche io sono anche io sono originario di castelfranco emilia quindi sono alla tua cadenza ecco almeno nell'accento emiliana una fiorentina in esilio io sono vivo qui da quando avevo quattro cinque anni a poco più quindi mi sembra che abitassi a modena nella zona della stazione piccola tempo è vero sì 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 bene bene no niente quindi è un grande privilegio anche perché io ti ho seguita nelle prime ricerche ovviamente quando si va cercando di rispondere alla domanda di eleonora da dove ho conosciuto steiner in realtà tutti noi siamo in cerca di qualcosa e anche anche chi non lo sa anche chi non ha voglia chi non ha tempo oggigiorno ci sono persone che dicono ma se avessi avuto tempo avrei fatto quello e la ricerca è iniziato dalla medianità nel senso mi ero messo in quel cammino in cui si cercano delle testimonianze attraverso altre esperienze di altri attraverso medium attraverso la metafonia la scrittura automatica ecco fino arrivare a contattare anche di persona queste persone che avevano dei contatti come poi anche la vicenda anche cioè diciamo che paola tu sei la testimoniale di tutte queste persone che hanno delle facoltà delle capacità e quindi lei anche incontrate quindi hai avuto anche questa possibilità anche riguarda gustavo roll so che hai avuto un contatto importante no infatti quindi no per me è un grande privilegio per il fatto che non ti considero una vera occultista ecco e per occultismo io intendo con lei che realmente crede nei mondi spirituali e ha un atteggiamento non soltanto diciamo di curiosità ma riporta veramente un anelito che parte proprio di te stessa e questo si percepisce l'ho sempre percepito l'ho sempre vissuto guarda tra le termine occultismo come lo usano i tedeschi occultismo si dicono da noi il termine occultismo è a qualcosa di un po inquietante il mondo che parla tedesco no è ciò che è nascosto cioè si studia ciò che è meno evidente che è meno palese infatti io quando dico che per esempio insegno il testo scienza occulta tutti mi guardano come se fossi una magia ci fosse della magia nera dentro così in italia sì sì è vero invece occulto vuol dire giustamente in ascolto come esoterico non pubblico chiuso dentro sì ecco noi e quindi questo taglio diciamo dell'esoterismo io l'ho sempre apprezzato in te perché ti ho sempre visto sempre allegra nel senso con un viso aperto sorridente no a differenza invece di quelli che si prodigano cultisti e spiritisti e sì che si presentano con i musi belli lunghi non lo spirito no nel senso adesso parliamo delle cose serie state zitti e invece per esempio steiner fece questa statua che rappresentate dell'umanità in cui mise proprio in alto un angelo che ride ride della tragedia umana ecco del fatto che è una divina commedia sapete che vedete non so che se molti sanno per esempio che il termine la divina commedia non fu il titolo che diede dante ma fu il boccaccio che prese in mano e fu lui che diede questo titolo quindi l'ironia del boccaccio ride nella tragedia dell'inferno qualcosa di di commedia e qualcosa che faceva anche ridere fa anche ridere la francese la comédie man dei francesi l'insieme della della vita degli esseri umani che noi ci sbattiamo tanto corriamo tanto grande quindi diciamo che associo sempre il fatto che lo spiritismo ha a che fare con l'essere spiritosi no una persona spirituale dovrebbe essere anche spiritosa no concordo concordo anche perché cioè anche perché noi parliamo della vita quando si parla di queste cose sembra che si voglia parlare di qualcosa di oscuro di noi parliamo della dell'origine della vita cioè del mondo cioè i defunti per esempio vivono non vivono nel mondo della morte vivono nel mondo della grande vita e quindi vivono in una condizione sicuramente forse migliore anche della nostra ecco da un certo punto di quello che viene detto si pare che sia migliore della nostra speriamo che sia così certo certo mi piace questa cosa che dici speriamo mentre fosse tua hai più certezze del tuo speriamo però va bene sì 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 però insomma al cento per cento non ce l'ha nessuno e secondo me è anche bene che resti un margine di dubbio che questo margine di dubbio ti induce a continuare a ricercare a continuare ad andare avanti se no ti addormenti ti acquisisci un certo tipo di un certo livello di certezza ti fermi lì che invece poi c'è da scoprire un'infinità di cose continuamente non finisce mai il mondo da scoprire quindi mi piace che ci rimanga questo margine ancora di ricerca che ci fa andare avanti è giusto anche perché noi veniamo sulla terra proprio perché senza sapere nulla perché se sapessimo tutto e non faremo nessuno sforzo per diventare migliori e quindi dobbiamo dobbiamo averlo questo dubbio giusto dobbiamo averlo fino in fondo è anche se fossimo chiaroveggenti vedessimo nel mondo spirituale e un dubbio che qualcosa ci tre ci può trarre l'inganno ci deve essere ecco è la dimensione ultimamente mi sono occupata abbastanza di gustavo roll guard è uno che ha vissuto tutta la vita ha vissuto fino a 91 anni quindi tanto a contatto con il mondo dell'oltre però lui temeva la morte non era del tutto tranquillo ne aveva un certo timore e questa è una grande saggezza secondo me perché è sempre un salto è sempre qualcosa di definitivo è sempre per quanto tu possa avere delle sicurezze delle garanzie avere acquisito conoscenze qualcuno non puoi mai sapere tutto quindi anche questo confronto con la grande sorpresa come anche lui aveva certo 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 no no infatti ma che la trattava con rispetto molto molto rispetto sì comunque per chiudere la domanda di eleonora come conosciuto steiner io stai conosciuto casualmente si dice come dice un mio amico di siena il caso è il nome laico di dio il nome comunista di dio comunista di dio è il caso la toscana vabbè che oggi non si dice più comunista non ci sono più comunisti però ci intendiamo con questo test forse in emilia si comunista una volta era proprio quelli che non credevano quegli atei no quelli che non volevano credere e allora invece che dire destino invece che dire dio lo chiamavano caso no fatto ecco e niente e incontrare questo libro proprio questo libro la scienza occulta un'edizione molto a del 1940 dei fratelli bocca non so se ricordi tutto loro in quegli anni certo certo e niente mi sentì attrazione ovviamente lo comprai senza sapere chi fosse la prima volta che lo vedevo però in realtà trovai la chiave di volta della mia ricerca dal punto di vista per quanto concerne la libertà della ricerca occulta perché quando si entra in una congregazione in una anche nella massoneria stesso in qualche congregazione in cui c'è una pratica che finisce sempre per diventare un elemento settario in cui c'è sempre la supremazia di qualcuno che vuole imporre vuole in qualche modo fare il maestro e questa immagine del maestro la si trova un po ovunque ecco ecco in steiner non si troverà mai un'immagine di un maestro che vuole manipolarti che vuole gestirti che vuole che tu diventi il suo discepolo ecco e questa è una cosa grandiosa perché per quanto mi riguarda che sono sempre stato un non accademico la figura del maestro mi è sempre stata scomoda ma non dell'insegnante è legittimo ma il maestro è qualcosa che io sento un anacronismo no e steiner questa cosa è veramente palese soprattutto è meraviglioso il concetto che liberatorio che l'iniziazione non è qualcosa che in qualche modo devi farti dare da qualcuno ma l'iniziazione oggi secondo steiner la puoi ricevere soltanto dal mondo spirituale stesso e quindi è una via che è individuale è una via che non è più di di un discepolo di un maestro certo ci vuole un insegnante perché chiunque vada a lezioni di musica è difficile che diventi qualcosa di una cima se non ha un insegnante che gli dia un'impostazione non l'impostazione è necessaria quindi nel mio incontro crudo steiner fu casuale ma fu importato sulla libertà della ricerca ecco per me questo fu veramente importante il primo libro di stare la filosofia della libertà sulla fisura libertà sempre battuto molto certo io penso che sia proprio probabilmente anche lui lui dice nella sua biografia che avrebbe potuto prendere una via diciamo clericale sarebbe potuto diventare un monaco un benedettino forse una parla forse di sì un benedettino però dice che lui prese un'altra via perché sentì che quella non era la sua chiamata ecco no niente stasera questo titolo che io non voglio assolutamente fare una dissertazione dei corpi sottili nel fare il teosofo quindi raccontare corpo fisico per te come stare no mi piacerebbe proprio mettere al centro anche condividendo con le onore con paola appunto il questo questa tematica del fatto che noi diciamo io ovviamente io mi dico questo in funzione di quello che l'antroposofia da dire non è tiziano bellucci che si è inventata sta cosa diciamo io a qualcosa che pensiamo siamo noi stessi no e soprattutto quando noi diciamo io non diciamo mai io no quando facciamo così e se diciamo oddio cos'è successo che sfortuna non diciamo io però è vero che noi ci sentiamo qui però quando diciamo io ci tocchiamo qui diciamo io ci tocchiamo il petto è già questa domanda ma perché mi tocco il petto invece che toccarmi la testa toccarmi un braccio toccarmi la gamba perché steiner dice che la sede dell'io dell'uomo si trova nel petto anche se ci sentiamo nella testa perché noi pensiamo con la testa no e questo io è se vogliamo sintetizzarlo in breve poi dopo casmella vogliamo dei pensieri un po più ampi è un essere che fa parte di una gerarchia in divinire voi sapete che nell'universo l'universo è retto da forze universali la forza di gravità la forza di covisione l'elettricità la scienza così come parla di caso parla di forze energetiche oggi nella new age per esempio viene sostituito il nome della divinità con il nome energia no anche nella fisica quantistica beh steiner dice che tutte queste forze astratte in realtà sono delle entità viventi che hanno una coscienza superiore ma sovrintendono la vita e il sistema universale quindi la forza di gravità terrestre è un essere della gerarchia dei troni per esempio la forza che irraggia per esempio dal sole è un essere della gerarchia degli elohim lui potrebbe dire se andiamo nell'antichità le antiche mitologie gli antichi sapevano tutto questo sapevano che di dei erano nel cieli sapete sopra le nuvole zeus artemide però ovviamente noi le immaginiamo sempre umanizzate queste forme steiner dice lo facevano perché era una loro rappresentazione ma queste forze non hanno nulla di umano sono delle forze energetiche che però importantissimo hanno coscienza beh noi esseri umani anche noi abbiamo una gerarchia che un giorno in qualche modo attenderà o affiancherà la direzione del cosmo ma non siamo noi non è che tiziano è un io tiziano è il rappresentante di una forza che è il suo io superiore il quale un giorno vuole raggiungere la massima miglioria di se stesso e conseguire una capacità una facoltà che solo grazie a tiziano grazie a paola grazie alle varie forme di vita che si manifestano sulla terra si riesce in qualche modo a donare a questa gerarchia ci saranno tanti spiriti liberi e speriamo noi di essere fra questi spiriti liberi parte di questa gerarchia che diventeranno gli angeli dell'amore e della libertà cioè lo scopo dell'uomo è essere sulla terra per preparare per addestrarsi a diventare un potremmo dire non un soldato ma un angelo dell'amore della libertà e quando saremo diventati questo non come singoli uomini ma come spiriti allora potremo cominciare a suonare insieme sapete che gli angeli di solito suonano hanno le arpe hanno anche noi faremo parte di quell'orchestra ma non come umani noi stessi steiner ci dice che quando passiamo nell'aldilà incontriamo la vera realtà di noi stessi incontriamo proprio quell'essere divino a quale noi diciamo io tutta la vita noi diciamo io al nostro corpo e crediamo che questo corpo sia io invece se ci guardiamo bene noi diciamo io per esempio ai nostri ricordi alla nostra memoria se noi ci svegliamo una mattina senza memoria non abbiamo più un io cosa pensate di questa cosa del fatto che la memoria in realtà i ricordi noi appoggiamo sulla memoria chi ha alzheimer è come se perdesse il dio non so se avete avuto qualche contatto con qualche persona di questo tipo che percezione hai avuto per esempio paola di una persona che ha un alzheimer che ha una serenità guarda ho seguito molto da vicino un caro amico che è il marito di una cara amica un uomo intelligentissimo con grande carriera scientifica eccetera che a un certo punto anche abbastanza prematuramente è stato affetto questo medico fra l'altro lui non hai più coscienza di te non ti rendi più conto di chi sei non hai più i comportamenti abituali quando sei nella fase finale naturalmente nella fase iniziale di limiti a ripetere le stesse cose tante volte perché non ti ricordi le risposte che ti vengano date e a fare anche dei gesti ti dimentichi dove la tua casa scaesci senza motivo nella fase finale proprio non hai più coscienza di te quindi è veramente una malattia terribile è ovvio che questo tipo di malattia è una malattia in quale l'individuo non trova la base su cui sostenerti quindi ha un vuoto di coscienza si sente privo di io c'è privo di quel centro di attrazione sapete che batteato diceva voglio un centro di certo un centro di gravità permanente no e si riferiva proprio a questo all'io perché l'io è quella forza attraverso cui noi possiamo anche sostenerci e la forza che ci fa sentire coraggiosi ci fa sentire forti quando non c'è un io allora l'individuo è insicuro l'individuo non è saldo in sé l'io è quella forza su cui noi possiamo fondare il nostro coraggio la nostra ecco ma che forza è che roba è è stai nel racconto è che questa forza è della stessa natura della sostanza spirituale in qualche modo che ha creato l'universo che in qualche modo è stata come dispensata all'umanità al principio si parlava di un essere di nome Adamo Adam Kadmon questo spirito che poi viene come moltiplicato viene come scisso in tanti io e ogni io adesso appartiene all'umanità quindi Adamo adesso non esiste più esiste una parte di Adamo in ogni essere umano che vuole diventare potremmo dire super uomo ecco perché dico questo il libro il grande equivoco vorrebbe riuscire a portare un messaggio a coloro che non sanno questa cosa per portare l'attenzione verso ciò che è la reale manifestazione dell'io in noi noi solitamente diciamo io voglio io desidero io sono io vorrei io sono io ho fame io voglio dormire non diciamo io a noi stessi diciamo io ho delle funzioni per esempio noi abbiamo fame ma non siamo noi che creiamo la fame non abbiamo sete ma non la creiamo non abbiamo sono tutte le funzioni corporee sono qualcosa che crea il corpo e quando diciamo io ho fame sbagliamo perché dovremmo dire il mio corpo sta producendo qualcosa che mi suscita la fame ecco questo atteggiamento è già diverso no vuoi dire qualcosa e onora una domanda prego si usami ma invece quando diciamo io voglio allora io voglio in genere non è un voglio ma è un desidero no io desidero mangiare ovviamente però io desidero qualche cosa di astratto per esempio desidero sapere poi conoscere dice desidero conoscere noi siamo sempre una metà fra l'umano e il divino c'è una parte noi che umana che ha bisogno e delle necessità fisiche e delle simpatie vero verso il corpo verso il piacere ed è bene che sia così verso il bello verso rifugiamo il brutto e cerchiamo il piacere no se no se vivessimo sulla terra per cercare il brutto e però scomodo non sarebbe avrebbe senso però c'è una parte in noi che è quella che ci porta verso la ricerca quella che vuole in realtà è la parte più divina la parte meno divina è proprio la parte potremmo dire che pensa perché pensa cosa pensa realtà pensa a quello che non è vivo cerca quello che è transitorio quello che può soddisfare i suoi desideri il nostro servizio di pensiero è sempre al servizio dei nostri desideri noi pensiamo soltanto per cercare di realizzare dei desideri no difficilmente vogliamo veramente noi stessi ovviamente uno dice ma che vuol dire volere se stessi volere se stessi vuol dire in realtà avere un comandamento solo cercare di diventare sempre migliore che bisogno ci sarebbe di avere dei comandamenti se uno si svegliasse la mattina e dicesse ma io come sono sono limitato potrei essere meglio e oggi da oggi in poi cercherò di essere migliore quindi mi dedicherò ad abbandonare ciò a cui credo che sia già perfetto per cercare di perfezionarlo sempre di più avere questo anelito verso il miglioramento è volere se stessi è questo che vuole l'io vuole che non ti siedi e non ti fermi che non ti dici soltanto mi basto mi piaccio così come sono io sono già vado già bene così come sono no ma è un appello dentro di noi che vorrebbe sempre tutelarci facci diventare meglio di quello che siamo ecco questo è il divino in noi il divino noi è cercare fino a 80 anni di pensare di poter diventare migliori io questa cosa la sento la finché finché hai vita non devi smettere adesso si vive molto più di 80 anni e quindi ancora avanti dicevamo prima di rol che ha vissuto 91 anni mia mamma ne è vissuto 94 lucidissimo fino alla fine c'è possibilità di miglioramento sempre certo io penso a molti mi guardano storto a volte quando dico questa cosa perché sembra quasi che io chiedo un sacrificio no diventare migliori voglio dire cosa naturale sì no è ovvio che per chi vive questa esperienza è molto bello pensare di cambiare di essere migliori no anche perché sono un guadagno uno potrebbe dire ma di cosa ti lamenti se se in realtà sta arrivando il meglio no sei triste perché deve rinunciare al peggio scusa il problema è l'egoismo e crediamo che di andare già bene così passiamo già limitati in questo perché noi possiamo meritare sempre di più sempre di più di meglio di quello che possiamo essere non abbiamo neanche l'idea di quello che ci aspetta come gloria pensate che per esempio san paolo dice ma lo sapete che noi siamo destinati a giudicare gli angeli c'è cosa vuol dire una frase del genere cioè vuol dire che potremmo riuscire a superare la gerarchia degli angeli e addirittura essere al di sopra dell'angelo che vuol dire vuol dire che è molto di più che dirigere che ne so una multinazionale o fare il banchiere avere un successo sulla terra certo sono cose che sono necessarie ma non siamo mica qua per questo che non siamo qua solo per questo siamo qua siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza materiale non siamo degli esseri materiali che vogliono fare l'esperienza spirituale no siamo esseri che provengono stato il discorso se oggi parlare di questo ovviamente sembra fuori luogo quando la parola anima e spirito sono come banditi dall'informazione provate a cercare la parola anima qualche volta viene fuori psiche no alla parola spirito provate a trovarla nei giornali dei giornali chi è che parla di spirito se non quelli che producono la birra l'alcol in un altro tipo di interpretazione il concetto di standard che mi piace molto è quello delle divinità degli ostacoli certo degli ostacoli questi particolari angeli che sono posti come ostacolo all'evoluzione a fini di bene cioè per dice steiner ponendo ostacoli al cammino dell'uomo l'uomo rafforza le proprie energie le proprie forze e quindi sono messi queste divinità lui dice si sono in un certo senso sacrificati accettando questo ruolo che sembra ruolo del male sembra invece no non è così ma sono ostacoli posti queste divinità pongono ostacoli sto forma di tutte le difficoltà possibili alla nostra evoluzione perché superandole possiamo compiere dei grandi passi avanti nel nostro cammino evolutivo se non ci fosse questo se il cammino fosse sempre liscio non hanno le nostre energie non avrebbero l'occasione per irrobustirsi e quindi faremo una vita quasi inutile ecco questo secondo se ne si potrebbe dire che esiste solo il bene che il male esiste per cresce per fare un bene maggiore è un po è un detto di ghete poi in realtà la c'è la morte esiste per creare molta vita no sai se questa frase esiste solo un grande bene pensate anche in questo momento storico in cui si parla di soltanto di sì ci sono molte persone io sono anche vivo delle contraddizioni perché ovviamente la gente è arrabbiata ci sono molte persone scontente molte persone che non ne possono più di questa situazione in cui si vive e quindi ci si scatena anche a teorie e diciamo in cui si vede il male ovunque no come se fossimo posseduti dal male il male ci sta gestendo e invece se la cosa si riesce a vedere una visione antroposofica in realtà questo male al servizio del bene è ovvio che questa cosa non piace a nessuno perché esiste un bene superiore al di sopra delle nuvole potremmo dire che utilizza il male che non sto dicendo che il male non esiste sto dicendo che il male viene comunque utilizzato a fin di bene da potenze superiori questo è un pensiero profondissimo che è inaccettabile dalla maggior parte delle persone cosa ne pensate non ci provano neanche a farlo proprio non viene accettato questo che il male possa essere qualcosa che ci aiuta a crescere ma questo diciamo che le persone più profonde più attente l'hanno sempre detto e attraverso le difficoltà che si cresce si ritrova magari alla fine di un periodo duro difficile si si trova più forti magari migliori questo l'hanno detto in tanti anche dopo una grave malattia dopo delle perdite dopo difficoltà nel lavoro difficoltà di ogni tipo alla fine se si riesce a superarle se si ritrova migliori di prima certo certo non è un cammino facile certo no è ovvio che si potrebbe anche crescere non solo sul dolore ma anche sul piacere solo che non interessa a nessuno crescere nel piacere pensate a nessuno interessa si trovano bene lì sì loro chi il piacere sarebbe ad essere goduto mica per imparare qualcosa no cosa devo imparare dal piacere ma invece il dolore ti obbliga a pensare perché se mi ammalo io voglio querire e quindi mi devo mettere delle preoccupazioni comincio a preoccuparmi oddio ma cosa avrò adesso farò degli esami perché sicuramente c'è qualcosa sicuramente avrò una malattia terribile allora quello tutto mette in modo delle esperienze che non avresti fatto poi casomai dopo si risolve tutto con niente casomai era una cosa insignificante però dicevo tornando tornando al discorso della situazione è come se in realtà ci fosse la necessità di volere pensare al male perché si vuole sfegare la propria rabbia contro qualcosa contro un colpevole sì e quindi è meglio cioè non è normale che il bene stia facendo qualcosa per il mio bene superiore usando il mai non mi piace no cioè io voglio invece punire tutti i cattivi anche se sono al servizio del bene io voglio punire di tutti si dico è questa non si può fare cioè devono fare il loro tempo devo fare il loro ruolo deve devono lavorare lasciamoli lavorare poi dopo quando hanno finito di lavorare porteranno via tutti gli attrezzi e noi continueremo anzi faremo una vita non l'averlo anche superiore no però se non si cerca di comprendere che stai da dice una cosa bellissima dice il bene è sempre esistito il male ha cominciato a esistere da un momento in poi ora quando una cosa esiste non ha mai avuto un inizio non finirà mai invece una cosa che inizia finisce e una cosa come il male finirà prima o poi quindi bisogna soltanto avere un po di pazienza anche questa pandemia finirà ma certo certo stein addirittura arriva a dire che ci sono delle guerre che sono state decise nei cieli delle guerre non solo pandemie questa è un'affermazione grave nel senso oggi dire questa cosa si viene tacciati di chissà che cosa no questo argomento che ha immosso sicuramente dei demoni diciamo delle forze del progresso hanno a che fare con l'io certo noi veniamo al mondo con una forza che viene chiamata il peccato originale sapete la chiesa cattolica noi ci facciamo battezzare per limitare queste forze pochi sanno che il battesimo è un rito di esorcismo rinunci tu al male ci dice ovviamente al bambino e la madrina e la padrina dico sì rinuncio e poi dopo con la cresima noi dobbiamo confermare questa posta domanda ci viene richiesta dopo perché nasciamo già con queste forze dell'ostacolo dentro se non è che sono fuori c'è dentro di noi convivono delle forze che ci fanno lo sgambetto nel nostro subconscio esistono delle forze per alimentare noi uno sforzo e quindi per metterci sotto tensione molto sotto sforzo il c'è la tragedia più grande dell'uomo è quella di soccombere al male e quindi non di non riconosce certo bisogna riconoscere che esiste il male ma bisogna fare in modo che il male sia superato e esiste per quello per farsi superare non per farsi distruggere no certo come la malattia malattia non viene mica per uccidere l'uomo viene perché suscitando la crisi come appunto diceva paola rinnova l'individuo dodota di forze che prima non c'erano no quando è che noi cresciamo dopo che abbiamo sofferto che abbiamo goduto il nostro tentativo di fuggire dal dolore ogni volta che lo incontriamo potrebbe essere considerato un errore la maggior parte delle persone tende a scappare di fronte a a preoccupazioni problemi male dolore che stessa c'è diciamo che l'istinto è quello di fuggire mentre in realtà la vera evoluzione secondo stai ma faccio vedere appunto dico riuscire a dominare però perlomeno stare eretti di fronte alle avversità è in questo modo che l'anima cresce si stabilizza no nel libro iniziazione che tra l'altro paola anche tradotto e quindi lo conosce bene c'è proprio un capitolo in cui si parla del fatto che l'uomo certo il dolore è un maestro ma anche il piacere ma è un maestro soltanto come ripeto non si può pensare di utilizzare il piacere per questo quindi non è che bisogna il dolore bisogna vederlo come un mezzo per vedere cosa c'è dietro adesso come un messaggio una via per poter indagare metterci in discussione ma non è una maledizione anzi io a volte dico che le persone che sono veramente malvagie di solito sono quelle che stanno sempre bene non hanno mai nulla ecco non è un bel segno non avere mai niente stare sempre bene fosse cattivo segno perché vuol dire che non sei ammesso alla prova e quindi non hai possibilità di svilupparti ovviamente sto esagerando nel senso che oppure vai già bene così devi fare altre cose non devi perdere tempo a combattere con acciacchi o con difficoltà è un altro compito certo certo c'è una persona che hanno già raggiunto uno status in cui non hanno bisogno di quello certo certo ma a me piace molto l'inizio dell'iniziazione le prime parole quando steiner dice rovescia tutti i criteri precedenti dicendo che in ogni uomo esistano facoltà latenti attraverso le quali gli può giungere alla conoscenza dei mondi superiori quindi lui dice che un uomo da solo può arrivare con le facoltà che ha mentre prima si diceva che se non c'era un insegnamento un maestro che ti iniziava che ti faceva che apriva la strada invece lui batte un cammino contrario cioè da ad ogni uomo rende l'uomo consapevole del fatto di possedere le facoltà latenti nascoste non è che magari sono così visibili attraverso le quali noi possiamo giungere alla conoscenza dei mondi superiori se lo vogliamo se ci mettiamo le energie necessarie se ci mettiamo l'impegno necessario e magari ci facciamo anche un po guidare però poi nel libro spiega anche come questo è un'operazione facilissima è un rovesciamento di tutti i concetti finora accettati e acquisiti quindi ti dà una grande responsabilità a te certo tu hai le potenzialità per andare oltre lo puoi fare però ti devi dare da fare ti devi muovere è interessante che stai nelle filosofie della libertà dice che l'uomo parte come essere limitato c'è un è un essere limitato e in realtà la libertà sta nell'essere consapevole di questi limiti per superarli una volta superate pensate che la superamento di questi limiti è proprio l'iniziazione e il fatto di potere smettere di credere di essere degli individui che credono di pensare di sentire di volere ma possono arrivare veramente a volere se stessi è produrre un superamento della coscienza quindi finché siamo quello che siamo se noi ci piacciamo come siamo in realtà siamo amiamo i nostri limiti ci troviamo comodi lì sì è un po strano dire questo è stato un provocatore steiner a fin di bene è stato un zecchiato molto l'essere umano a compiere un cammino di consapevolezza di crescita questo poi che deve fare un vero maestro secondo me darti la consapevolezza che puoi fare certe cose se lo vuoi lui in questo è stato veramente un grande maestro purtroppo è a volte un po difficile da leggere steiner ha una scrittura non facilissima e per cui secondo me ci sarebbe bisogno tante sue opere di ritradurle che molte sono tradotte molto tempo fa da non professionisti mi dicano cioè da membri della società antroposofica così che lo facevano per affezione per servizio eccetera per tradurre steiner ci vorrebbero proprio dei professionisti che conoscessero bene sia la lingua che steiner stesso che il lavoro di steiner ci vuole un traduttore un po particolare e restituirli anche con un linguaggio più adatto alla mentalità moderna e questo faciliterebbe senz'altro no ma guarda è ragionissima ci sono io stesso ho fatto dei reclami confronti di alcune traduzioni adesso non voglio entrare in polemica col traduttore in cui chi legge quei libri non si riconosce nell'antroposofia cosa vuol dire che chi ha tradotto non in realtà non sa quello che non conosce quello che ha tradotto per tradurre e come per fare del giornalismo la stessa cosa c'è tu non puoi fare che fai giornalista su qualunque argomento tu devi fare il giornalista di politica oppure di opere dell'arte oppure della natura c'è da di devi specializzare e così pure anche nelle traduzioni tutto non puoi essere uno che conosce genericamente una lingua parlo di qualunque lingua ma devi conoscere un po anche la materia che vai a tradurre perché altrimenti fai fatica e steiner in particolare perché non ha un linguaggio facile se si non lo condivido no veramente non ci si riesce a fare una panoramica dell'antroposofia ovviamente se uno legge tantissime conferenze allora comincia a entrare nel suo spirito e capire cosa in realtà lui porta ma se uno si basa solo su un test mettiamo mal tradotto in realtà non capisce nulla non è impossibile c'è il rischio di andare proprio anche io conosco degli antroposofi che leggono steiner hanno conosciuto ma in realtà hanno una visione di steiner che è l'opposto di quella che io personalmente sento c'è non c'è un elemento di redenzione nell'uomo ma c'è un elemento assolutamente quasi orientalista c'è qualcosa che non che proprio non ha senso in steiner c'è tutto tranne essere orientalista è uno spirito dai teosofi per quello perché teosofi erano più orientalisti lui lo era era cristiano era approfondamente occidentale certo sì sì infatti spesso spesso non hanno prefazioni io scusatemi sono una grande sostenitrice delle prefazioni che ti spieghino chi che scrive questo libro e partano così col testo è capitato almeno di averne alcuni di steiner tradotti per le mani che parlano direttamente col testo di steiner senza che nessuno ti dica che era steiner e che cosa che cosa si dice in questo libro cioè prepararti un po alla lettura io sono faccio questo c'è la mia divulgazione appunto riguardo l'antroposofia che a volte forse vengo tacciato anche di semplificare con l'antroposofia io cerco di fare questo mettendo insieme tanti concetti che di cui mi sono impadronito nel tempo con sforzo con fatica perché veramente ci vuole dedizione per applicarsi per volere capire ci vuole dedizione non è che uno voglia imporre la propria volontà ecco però spesso ci si misura con altri individui che casomai hanno anche loro letto però non hanno mai voluto cercare di cogliere lo spirito di steiner io ho un rapporto anche non dico personale con rudo steiner non dico che ho un rapporto più con forse ho un rapporto più con steiner che con l'essere dell'antroposofia sempre ovviamente io riconosco che l'antroposofia sia anche presieduta da un'entità spirituale che in questo caso viene incarnata con l'essere dell'arcangelo michele e quindi ho tutta la devozione verso questa forza però c'è un legame anche sottile io sinceramente adesso non è che voglio dire niente di speciale però molte volte ho avuto delle conferme a mie intuizioni che mi sono state arrivate attraverso dei libri postumi nel senso che non si capisce una cosa non c'è nessuno che te la può spiegare perché sono cose che non è che poi tutti te le spiegano e allora comincia a farti un tuo pensiero e magicamente dopo due tre giorni apri o compri un testo di steiner e trovi la conferma su quello che stavi pensando e io questa la stento come una specie di comunicazione con l'individualità di steiner come se in realtà ci fosse la possibilità di comunicare perché molti libri sono stati pubblicati dopo la sua morte raccogliete tutte le conferenze come dicevamo prima sì 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 beh bene mi fa piacere che stasera abbiamo anche ampliato e abbiamo fatto conoscere al pubblico che ci sente ora che ci sentirà indifferita appunto abbiamo aperto molto la visione di steiner abbiamo messo speriamo di aver messo la voglia di leggere qualche cosa e di informarsi intanto di cominciare col tuo libro se è ovvio che quando uno comincia con un libro su steiner dopo gli viene voglia di proseguire con con altri vedete che sta nel tenuto 6.000 conferenze nella sua vita una cosa prima un conferenziere prodigioso parlava di tutto di qualunque materia era certamente ispirato in questo perché era veramente un uomo credibile certo certo quindi niente io diciamo sempre per anche appoggiandomi a argento dorato che mi ha aiutato a pubblicare questo testo che è un è un testo che praticamente io tenevo lì è un lavoro che ho sempre aggiornato negli anni perché man mano che c'erano delle condizioni che potevano servire per poter arricchire quello che l'uomo l'ho aggiunto quindi in realtà un libro che ha cominciato a scrivere già dal 95 poi dopo si aggiornava sempre fino ad aver trovato una forma che adesso è stabile ecco però sapete un libro si evolve le le edizioni poi si fanno per quello no perché è un raggiungi qualcosa quindi ma io ringrazio loro io non aggiungerei altro perché lascerei la curiosità di andarsi a leggere il libro che possono trovare vero il libro lo possono trovare online tranquillamente basta digitare il grande equivoco e io vi spero spero tanto che voi possiate risolvere questo equivoco che c'è in voi fra il vostro io e il vostro ego cerchiamo di dire meno io a noi stessi perché viviamo faccia molto che dire io 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 un accidente diciamo io un'altra cosa se dicessimo io veramente e sarebbe il momento giusto forse smetteremo di essere meschini di essere egoisti soprattutto ecco è un invito bello anche questo rivolto a tutti lo faccio mio lo faccio anche grazie grazie mentre se vuoi chiudere così possiamo salutare volevo chiudere con una domanda per paola è una domanda per tiziano ma prima abbiamo una persona del pubblico di più di te che ci chiede ci fa vuole vuole fare una domanda dice che un attimo dice dice ritengo stai pericoloso perché molti prendono alla lettera ciò che dice e scrive in quale misura secondo loro penso secondo voi ciò deve essere fatto se c'è qualcuno che vuole rispondere dunque no io posso dire che è una domanda molto generale per cui è molto difficile rispondere bisognerebbe andare sui singoli brani che lui dice che presi alla lettera ecco verrebbe andare sui singoli brani alla luce di quello che con tiziano dicevamo alla fine potrebbe anche dipendere dalla ostrosità di certe traduzioni abbiamo detto prima che ecco che che a volte siccome stai non ha un linguaggio facile e a volte le traduzioni che molto molto spesso risalgono anche a parecchi anni fa potrebbero essere migliori quindi certe frasi potrebbero non essere state ben capite oppure fraintese e quello l'invito che facevo eventuali editori tra cui il signore leonora eventualmente di prendere ma adesso e steiner è morto da più di 70 anni quindi i libri sono liberi sicuramente sì sì sono 70 anni lui è morto nel 25 infatti quello che io tradotto l'iniziazione mondi superiori l'abbiamo fatto dopo il 95 perché appunto avevamo visto che i diritti abbiamo informato la società antroposofica per correttezza però poi l'abbiamo tradotto liberamente in dire un invito anche agli editori interessati a queste tematiche a riprendere in mano i libri di steiner e a offrire una tradizione aggiornata perché anche le tradizioni anche le traduzioni vanno modernizzate vanno aggiornate ma che tu sappia paola c'è ancora qualcosa di inedito questo non lo so qua mi avrebbe rivolgersi alla società antroposofica che a milano e a chiedere com'è la situazione se ci sono ancora degli inediti e comunque quelli editi possano essere rieditati è libero viene basta avere gli originali in tedesco la pubblicazione adesso siamo quasi al 40 per cento e 60 per cento non è ancora è ancora inedito ancora tanto se no giusto condivido quello che dice paola e aggiungo anche capisco chi fa questa affermazione perché anche io sono veramente stanco di sentire degli individui che prendono steiner a braccetto e gli fanno dire quello che li pare a loro nel senso che estrapolano una frase da un contesto molto più ampio e l'opera adoperano per dire le loro per esempio questo concetto degli uomini senza io steiner dice che esistono degli uomini senza io sulla terra che non sono umani e quindi bisogna stare attenti perché sono pericolosi e questa è un'affermazione pericolosissima cioè che viene messa in bocca steiner steiner quando diceva queste cose bisogna vedere dove lo diceva diceva in un gruppo di dieci persone non voleva che fossero pubblicate casomai quelle cose lì erano riservate a un gruppo ristretto che concerneva l'argomento di quella conferenza quindi bisogna guardare anche dove è stato preso in tutto il contesto non solo la frase perché se uno prende una frase la può manipolare come vuole ecco e purtroppo stare a fare su steiner editoriale proprio sì assolutamente assolutamente quindi capisco che possa sembrare pericoloso perché viene proprio manipolato viene manipolato nella traduzione ma viene la rivolato anche estrapolando una frase e ponendole in un contesto a vantaggio di colui che vuole difendere una propria posizione viene fatto sempre non soltanto costane ma costane penso che venga particolarmente bene visto la complessità dei ragionamenti la ricchezza di materiale troppo sì bene allora concludiamo solamente con una domanda ti volevo quindi chiedere quindi questo titolo il grande equivoco sta per qual è questo grande equivoco il grande equivoco è un invito a domandarsi chi siamo veramente ce l'hanno già fatto i greci nel tempio di delfi uomo conosci te stesso e pochi sanno che c'era anche un'altra scritta sotto che diceva uomo conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dei e quindi l'invito a smettere di dire di equivocare se stessi con il proprio corpo con le proprie anima ma di cercare più in profondità smettere di essere superficiali cercare di approfondire cos'è l'uomo e cosa siamo noi stessi ecco uomo conosci te stesso vi riporto una frase di che fosse a 2500 anni però sempre valida ecco sempre benissimo allora io ricordo che il libro di tiziano è disponibile in tutte le librerie è disponibile nei principali store online e ovviamente lo trovate anche sul sito di argento dorato editore per chi fosse interessato a leggerlo concludo con una domanda a paola che ringrazio comunque per essere stata dovevamo finito avevamo paura di non avere nulla da dire invece siamo stati oltre l'ora paola ti volevo chiedere che cosa ti ha dato come come ha arricchito la tua vita il tuo pensiero questo ma questo grande maestro che è Rudolf Steiner ma mi ha veramente molto coinvolto tant'è vero che ho desiderato di di tradurre una delle sue opere quella che mi ha interessato di più io traduco raramente perché non ho molto tempo traduco quando traduco traduco dal tedesco perché la lingua che conosco meglio gli editori mi fanno volentieri tradurre dal tedesco perché in pochi lo conoscano e quindi ho desiderato tradurre questo libro perché mi faceva piacere che avesse una traduzione che mi è sembrata buona e che questo libro che secondo me è uno dei più importanti fosse uno dei più attrattivi anche per come titolo e fosse fosse un meglio conosciuto quindi l'ho ritradotto l'ho prefatto come come con tutti gli altri quindi mi veramente mi ha e continua a stupirmi la ricchezza di del pensiero di Steiner che ogni tanto continua a leggere delle cose lo ritrovo citato in un'infinità di occasioni ed è un pensiero quello di Steiner che veramente arricchisce se uno lo approfondisce se uno comincia a leggerlo dopo non smette più diciamo che poi lo ritrova in tante cose in tanti campi diversi come dicevo prima dal campo spirituale al campo pedagogico al campo dell'agricoltura della medicina lui addirittura a Dornach ci sono intorno alla sede centrale ci sono vari istituti sempre fatti nello stesso stile eccetera e ce n'è uno dove legano le pietre ai metalli cioè fanno gioielli in pratica con un adesso noi i gioielli facciamo a casaccio cioè prendi una metispa e la leghi con qualunque tipo di metallo argento o bianco o giallo o diciamo che il suo pensiero arriva da tutte le parti faccio questo piccolo esempio per dire è un uomo che andrebbe meglio conosciuto e meglio approfondito quindi un invito questo io vi ringrazio tantissimo abbiamo avuto una bella fluenza di pubblico sono sicura che gli argomenti sono interessanti in questa oretta e venti è scivolata via mi sono svegliata prima ero stanca adesso mi avete dato energia per continuare la serata ringrazio di cuore e paola che spero di rivedere quando sarà possibile di nuovo grazie a tiziano per averci spiegato i contenuti del libro e grazie a tutti per avere partecipato questa bella serata grazie ancora leonora e grazie tanto a paola tanto grazie a voi dell'invito che mi ha fatto piacere buonanotte a tutti buonanotte ciao leonora arrivederci